Bella stagione ormai alle porte e da domani, sabato 17 marzo, riparte il servizio 5 Terre Express con collegamenti ogni 30 minuti nella tratta Levanto-La Spezia. Ci saranno, come lo scorso anno, 99 collegamenti giornalieri che garantiranno, come avviene da due anni, un servizio efficace, dice l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, per soddisfare i sempre crescenti flussi turistici nei borghi e le richieste dei pendolari. Flussi che sono sì la fortuna di un territorio patrimonio unesco, ma che in questi anni hanno creato anche criticità per quel che riguarda sicurezza e gestione. Il ticket del 5 Terre Express quest'anno resta invariato, 4 euro, esenti, residenti e pendolari che non pagano alcun supplemento alla tariffa ordinaria. I 46 treni nella fascia oraria 7.55, 20.10 del 5 Terre Express si aggiungono ai 40 servizi regionali che fermano nelle località riverasche sino a l'una di notte e ai 13 regionali veloci confermate nelle 5 Terre. Anche quest'anno in ogni stazione dalla Spezia Levanto è attivo il servizio di Customer Care di Trenitalia per le informazioni e l'assistenza ai passeggeri. Inoltre nei periodi a maggiore frequentazione turistica RFI e Trenitalia hanno annunciato di rafforzare i presidi nelle sale operative di Genova e Pisa, il personale dedicato all'antievasione e i tecnici specializzati nelle principali stazioni per garantire il pronto intervento e la rapida gestione di eventuali criticità. Potenziata anche la rete di vendita diretta da Trenitalia nelle stazioni della Spezia, Monterosso e di Levanto.